E tutti, signori, possono sbagliare, come si dice, sbagliano anche i migliori, no? E allora, non bastava già qualche commento che c'è stato nel web assolutamente da dimenticare, cioè la notizia del ritorno in Serie A del nuovo acquisto del Cagliari di Ranieri, con cui aveva giocato le sue migliori stagioni con la maglia blucerchiata, che ha riproposto antichi cliché dopo la decisione del giocatore che lo scorso febbraio ha fatto coming out, e su questo già aveva fatto super notizia, rivelando il proprio orientamento. Tutto però ci si poteva aspettare, fuorché che fosse anche il ministro dello sport, Abodi, a commettere una gaff, parlando del caso. La maggioranza dei tifosi sardi aveva già dato il benvenuto al giocatore, che pure aveva fatto capire che in Italia era più difficile parlare apertamente di questi argomenti. Oggi però, Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, intervenuto durante il 24 mattino su Radio 24 rispondendo sul ritorno in Italia del giocatore, è scivolato su una buccia di banana. Queste le sue parole, la società probabilmente, in generale, ancora qualche passo in avanti può farlo. Per quanto mi riguarda è prima di tutto una persona e secondo è un atleta. Non faccio differenze di caratteristiche che riguardano la sfera delle scelte personali. Se devo essere altrettanto sincero non amo, in generale, le ostentazioni, ma le scelte individuali vanno rispettate per come vengono prese e per quelle che sono. Io mi fermo qui. Fioccano le reazioni sui social, questo è davvero tutto scemo, povero sport italiano, oppure, un altro dinosauro che invece di stare zitto e tenersi le cose per sé dice la sua, e poi, Abodi si vergogni. Il coming out non è un'ostentazione figurarsi in un ambiente come quello calcistico in cui si configura come un vero e proprio atto di coraggio che fa solo bene all'ambiente sportivo. C'è chi scrive, ostentazioni? Ostentazioni? Ma ci rendiamo conto che facciamo campagne per l'inclusione e poi ai vertici mettiamo personaggi che fanno queste uscite? Senza parole e anche, ogni volta che apre bocca deve dire sciocchezze? Adesso fare coming out è diventata l'ostentazione? Ma mi faccia il piacere. Poi mi fa ridere definisca scelta individuale, non è una scelta. Yangtto è nato così, si è solo scoperto dopo. Il web è scatenato, è l'ignoranza che non andrebbe ostentata e poi, concordo, l'ostentazione di ottusità e bigottismo sono da condannare fermamente. Spero che le istituzioni calcistiche comincino a fare qualche passo culturale in avanti. Anche per dare un esempio ai tifosi magari. E infine, allora i cacciatori che postano foto e video dei loro matrimoni non li apprezza. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto. Mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.